Il 2018 si è concluso con un'altra vittoria per la Scaligera Basket in compagnia di Jatzmar Ferguson. Otto vittori in fila, una sua impressione sulla prima parte della stagione della Scaligera Basket e della vittoria su Udine di domenica. Credo che stiamo migliorando ogni settimana, stiamo migliorando la nostra chimica di squadra e la nostra mentalità. Il modo in cui prepariamo ogni partita è la chiave per affrontare al meglio. Abbiamo ancora una partita per arrivare al traguardo di metà stagione e penso che sarà un test molto importante per noi giocando in trasferta. Stiamo cercando di prepararci bene questa settimana per giocare domenica. Si torna in campo domenica a cento alle ore 18 al Palas Avena. Una domanda proprio sull'avversario. Noi sappiamo che tipo di squadra andremo ad affrontare domenica. Sappiamo anche che James White ha un grande giocatore che è James White e per questo motivo dovremmo fare uno sforzo di gruppo per limitare alcuni dei loro punti di forza. Ma so anche che abbiamo la forza e l'abilità di squadra per restare concentrati sul nostro gioco. Focusingi sull'avversario e giocare bene per la partita.